Buongiorno a tutti, io sono Simona e mi occupo per infinito il planetario di Torino della comunicazione e dell'ufficio stampa. Sono qui per raccontarvi di un nostro nuovo canale digitale. Sì, perché anche noi, come tutti voi, restiamo a casa, ma vogliamo continuare a raccontarvi le meraviglie del cielo. Lo facciamo digitalmente, proprio perché non possiamo ospitarvi in museo, temporaneamente chiuso. Lo facciamo attraverso Infinito Tom, un canale all'interno del quale potete trovare un po' di tutto, racconti e attività per i più piccolini, video e approfondimenti per tutti gli appassionati del cielo. Non possiamo utilizzare la terrazza osservativa del nostro museo e allora alcuni di noi hanno aperto i balconi delle proprie case, hanno montato dei telescopi e in diretta live vi hanno raccontato le meraviglie del cielo. Se vi siete persi qualcosa o se volete conoscere i prossimi appuntamenti trovate tutto sul nostro sito planetarioditorino.it oppure potete seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e YouTube. Su Instagram trovate anche delle divertenti stories o dei quiz astronomici in cui potrete cimentarvi. Allora vi aspettiamo sui nostri canali nell'attesa di rivedervi presto all'interno del museo.